Pierluigi Diaco si rivolge a Blanco. Uno shock. Ecco cosa devi fare. Della sfuriata di Blanco, alla prima serata del Festival di Sanremo, hanno parlato proprio tutti. Ieri anche Pierluigi Diaco ha detto la sua. Durante l'ultima puntata di Bella, ma, il conduttore si è rivolto direttamente al cantante, al quale ha consigliato di tornare al teatro Ariston per chiedere scusa al pubblico. Cancelletto Pierluigi Diaco ora a Cancelletto Bellama invia un messaggio a Cancelletto Blanco. Mi auguro e mi aspetto che le tue scuse arrivino stasera sul palco dell'Ariston. Chiedere scusa significa capire tutto il lavoro che c'è dietro ad una scena. Costruire è più importante di distruggere, Cancelletto Sanremo 2023, Claudia Cabrini, Chiocciola Claudia trattino Basso Cabrini, February 8, 2023 e Pierluigi Diaco. Per gli spettatori è stato scioccante. Mi rivolgo direttamente a Blanco che è un ragazzo molto complesso, che ha e per gli spettatori è stato scioccante.